Stefano Cervelli, il GUD di Bocconi a Milano, apre le porte a una formula di aperitivo dalle 17 alle 21. Il GUD Bocconi vuole essere, concedimi il termine, il bar dello sport dello studente della Bocconi, nel senso un locale che lo possa accompagnare in tutto l'arco della giornata, dalla colazione mattutina al pranzo al pomeridiano, ma anche e soprattutto l'aperitivo al serale. Quindi da pochi mesi a questa parte abbiamo incominciato a prolungare il nostro orario, a fare diventare anche il GUD un locale serale, dove si parta con un grande aperitivo, con tante cose sfiziose, i nostri cocktail, le preparazioni che vanno dalla pinza al bao, al cirashi che è il nostro poké rivisitato, alle focacce, a dei piatti di cucina che sono sempre disponibili. GUD crescerà ancora? Sono previste nuove porture? Assolutamente sì, non posso parlare, ma c'è già un sacco di carne sul fuoco. Sempre su Milano o fuori? Sempre su Milano. C'è l'impossibilità per il futuro di aprire un franchising anche fuori da Milano, come idea? È un'idea, un sogno, ma per poter realizzare questa cosa bisogna diventare veramente solidi e avere la certezza di poter replicare senza il controllo. Quindi è una cosa che stiamo valutando da un paio d'anni. Baccia e braccia, ciao! Grazie, ciao!